Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale, potrete commentare tutte le notizie qui sotto proprio nella sezione commenti. Alla fine l'annuncio tanto atteso è arrivato, Gianni Sperti ha presentato il suo nuovo amore, ma ciò che tutti hanno visto è decisamente diverso rispetto alle aspettative. I fan erano col fiato sospeso da molte ore, infatti attendevano con trepidazione altre comunicazioni ufficiali da parte dell'opinionista di uomini e donne ed ecco che ce n'è stata una. Lui ha proposto una foto sul suo profilo Instagram, che sarà sicuramente stata commentata tantissimo in privato. Gianni Sperti, parlando del nuovo amore, aveva detto, prima che leggiate sui vari blog e giornali online, preferisco anticiparvelo direttamente qui, sono ufficialmente innamorato, ha scritto Gianni Sperti che dunque ora ha una persona al suo fianco ed è innamorato. La storia di sicuro si sarà fatta importante per renderla ufficiale sui social. Ma ecco giungere una sorpresa clamorosa, che rende tutto completamente differente. Recentemente Gianni Sperti aveva fatto capire che non ci fosse nessun nuovo amore all'orizzonte, infatti aveva fatto sapere al pubblico che lo segue da una vita in tv, sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita. Certo, se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere ma non la cerco. Ora sembrava essere terminata la sua vita da single, ma andiamo a scoprire invece chi ha accolto con sé tra lo stupore generale. Al fianco di Gianni c'è una splendida cagnolina, che ha chiamato Mina, un cucciolo di colore bianco che gli farà tanta compagnia. Al corredo della foto ha scritto, ecco il mio nuovo amore.quello puro e incondizionato. Vi presento Mina. E ha anche inserito un bellissimo cuore rosso, a testimonianza del fatto che l'amichetta a quattro zampe gli ha già conquistato il suo cuore. E i fan saranno ugualmente felicissimi. Per quanto riguarda invece la sua vita strettamente riservata, non c'è nessuna persona che lo ha fatto innamorare. Quindi, possiamo dire con una certa sicurezza che è attualmente ancora libero da vincoli sentimentali.